Ciao ragazzi, bentornati sulla mia scrivania. In questo video vi spiegherò come realizzare un simpatico gufetto utilizzando le Hama Beads. Per la sua realizzazione mi sono ispirata ad uno schema che ho trovato sul web. Spero che vi piaccia e vi lascio al tutorial. Ciao! Ci serviranno delle Hama Beads in queste colorazioni, due nere e dodici bianche per gli occhi, 5 arancioni per realizzare il becco e le zampette e poi per realizzare il corpo del gufetto ne utilizzerò 17 bordeaux, 24 rosse e 16 marroni. Utilizzerò la base esagonale, delle pinzette per aiutarmi a posizionare le perline sulla base e infine ci serve la carta forno e un ferro da stiro. Per realizzare questo tutorial utilizzerò le Hama Beads nella misura midi, ovvero quelle da 0,5 mm di lunghezza e diametro esterno. Ovviamente potete realizzare lo stesso progetto utilizzando le perline mini, ovvero quelle da 2,5 mm di lunghezza e diametro esterno. Questa è la differenza fra le due misure. Questo gufetto che sto tenendo con la mia mano sinistra è stato realizzato con le perline da 0,5 mm, ovvero la misura midi, mentre quest'altro gufetto più piccolo che tengo con la mia mano destra è stato realizzato con le Hama Beads della misura mini, ovvero quelle da 2,5 mm di lunghezza e spessore esterno. Tutto il materiale che utilizzerò in questo video, sia le Hama Beads nelle due misure che le basi, potete trovarlo sul sito perlinedastirare.it. Iniziamo a posizionare le perline sulla base esagonale. Posizioneremo le perline andando da sinistra verso destra. Iniziamo a riempire il primo rigo di pioli. Dovremmo inserire solamente una perlina sul primo piolo e un'altra perlina, sempre rosso bordeaux, sull'ultimo piolo. Passiamo alla riga sottostante. Saltiamo un piolo e poi inseriamo 3 Hama Beads color rosso bordeaux. Saltiamo un piolo e inseriamo altre 3 Hama Beads color rosso bordeaux. Passiamo al rigo sottostante, ovvero al terzo. Saltiamo un piolo e poi inseriamo una perlina rossa. Poi di seguito ne inseriamo due bianche, poi una rosso bordeaux e una seconda perlina rosso bordeaux. Poi di nuovo due bianche e per finire una rossa. riempiamo il quarto rigo partendo dal secondo piolo a partire da sinistra. Inseriamo una perlina rossa sul secondo piolo, poi una bianca, una nera e un'altra bianca. Una rosso bordeaux, un'altra bianca, una nera, una bianca e un'altra rossa. Quinto rigo, saltiamo due dentini ed inseriamo una perlina rossa. Poi di seguito ne inseriamo due bianche, due arancioni, poi di nuovo due bianche e una rossa. Iniziamo a riempire il sesto rigo orizzontale. Quindi dobbiamo saltare tre dentini dentini ed inserire sul quarto dentino una perlina rossa. Poi di seguito ne inseriamo altre due sempre rosse. Un'arancione e di nuovo tre rosse. Settimo rigo, saltiamo tre dentini sulla sinistra ed inseriamo una perlina rosso bordeaux sul quarto dentino. Poi ne inseriamo una rossa, quattro marroni, poi di nuovo una rossa e una rosso bordeaux. Ottavo rigo, saltiamo sempre tre dentini sulla sinistra ed inseriamo una perlina rosso bordeaux sul quarto dentino. Poi ne inseriamo una rossa, di seguito cinque marroni, di nuovo una rossa e per finire una rosso bordeaux. Nono rigo, inseriamo una perlina rosso bordeaux sul quarto dentino a partire da sinistra. Poi inseriamo una perlina rossa, di seguito quattro marroni, poi ancora una rossa e per finire una rosso bordeaux. Siamo arrivati al decimo rigo orizzontale, inseriamo una perlina rossa sul quinto piolo a partire da sinistra. Poi di seguito ne inseriamo tre marroni e di nuovo una rossa. Sul rigo sottostante inseriamo una perlina rossa sul quinto piolo a partire da sinistra e poi di seguito ne inseriamo altre tre sempre rosse. completiamo il nostro schema inserendo una perlina arancione sul quinto piolo della riga sottostante, poi saltiamo un piolo e inseriamo un'altra perlina arancione sul piolo successivo. Ed ecco qui il nostro schema è pronto per essere stirato, quindi prendete la carta forno e posizionatela sopra il gufetto, in questo modo facendo attenzione a non spostare le perline che abbiamo appena inserito. Dopodiché accendete il ferro da stiro a una temperatura non troppo elevata e lo posizionate sopra al nostro schema per circa 20 o 30 secondi, finché non noterete che la superficie delle perline si sta sciogliendo e quindi le perline si stanno fondendo insieme. ed ecco il risultato, molto carino direi. Vi consiglio di far freddare questa creazione mettendoci sopra un peso, in questo modo non si deformerà e rimarrà bella piatta. in questo modo. E niente ragazzi, il tutorial è terminato, spero che questa idea vi sia piaciuta e che la realizzerete. Ci sentiamo al prossimo video. Ciao!